Quando vede il carri apri, risce, capito? No amore, non ce l'avevo tutti, ce l'avevo con l'amico mio che mette la musica e non la toglie, capito? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti! Grazie, buonasera, salve. Ciao, Annalì. Porto rispetto e chiamamme Donnalise. Si... Si... E' bellissimo. E' bellissimo. E' bellissimo. E' bellissimo. Buonaccuzione. E' bellissimo. le vostre mamme devono battere le mani 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 e le mani 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 ma quando io parlo non mi senti oh sai perché mi chiamano Chanel si perché siete la numero 5. Io sono la numero 1. E sono la boss. E tu sei al numero 23. Ascena. E no, 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 no. Io sono a 11 e mezza. E che numero è? A mezza ascena. Padre, hai fatto quello che ho chiesto. Hai tolto le impronte dalle pistole? E il pistolo si è pulito? Sì. Le ho messe tutte qua